Un minuto con Padre Pio da questo luogo tanto caro a tantissimi devoti di Padre Pio da Pietrelcina per raccontarvi un episodio che è accaduto ad un figlio spirituale di Padre Pio, fra Daniele Natale. Spesso ci siamo imbattuti in un argomento, la durezza, ovvero a volte si è detto che Padre Pio era una persona burbera. Padre Pellegrino Funicelli scriveva che Padre Pio era una montagna di zucchero, proprio per spiegare attraverso qualcosa di evidente e reale quanto era dolce Padre Pio da Pietrelcina. Chiaro, in alcuni momenti doveva affettuosamente riprendere anche i suoi confratelli. Cosa era accaduto? Era accaduto un episodio particolare come spesso accadeva quotidianamente qui. Vi era un signore distinto che veniva da Milano, aveva percorso tanti chilometri, l'indomani doveva ritornare a Milano, aveva due lettere, quella dell'Arcivescovo di Milano che lo presentava, Padre Pio e l'Arcivescovo Montini e poi c'era la lettera del Ministro Generale dell'Ordine dei frati minori Cappuccini, una vera e propria raccomandazione. Questo uomo doveva parlare assolutamente con Padre Pio, era disperato, però l'indomani doveva ripartire per Milano. Aveva fatto tanti chilometri, intanto la giornata di Padre Pio si era quasi conclusa. Padre Pio aveva celebrato, aveva confessato, si era ritirato anche con i figli spirituali nell'orto del convento, aveva ormai già trascorso una giornata lunghissima. Il portinaio del convento aveva l'obbligo di non far passare più nessuno e così fece, si imbatté con quest'uomo e disse, mi dispiace, ma io non posso andare contro quelli che sono gli ordini del mio padre guardiano, perché poi sarò ripreso. Quest'uomo in un angolo scoppiò in lacrime, in quel momento esce dal convento fra Daniele e Natale che vedendolo in lacrime, come spesso faceva affettuosamente, si rivolgeva ai tanti figli spirituali, ai tanti devoti che giungevano qui, lo ascoltò e questo uomo gli raccontò la sua problematica e lui disse, non ti prometto nulla, vado da Padre Pio che ora si trova ancora in giardino e gli presento il tuo caso, vediamo un po' se riusciamo a farti entrare soprattutto e soprattutto se Padre Pio ti vuole ascoltare. Fra Daniele in un lampo va, torna di nuovo e disse, vieni con me, Padre Pio ha detto che puoi venire, però mi raccomando agli altri non dire che sono stato io a farti entrare, questa fu una spiegazione di Fra Daniele perché tante erano le richieste, ma quell'uomo aveva una richiesta particolare e urgente. Accompagnato da Padre Pio lo fece sedere accanto a lui e i due cominciarono a parlare e vide Fra Daniele che quest'uomo raccontandogli le sue cose vedeva anche da parte di Padre Pio non la volontà di licenziarlo immediatamente, ma stava lì ad ascoltarlo, quindi parlava anche lui. era una bellissima immagine di un padre con un figlio penitente che lo stesso Fra Daniele volle immortalare in una foto, lui era un amante della fotografia, andò in stanza, prese la macchinetta fotografica, scese e scattò una bellissima fotografia, ma in quel momento Padre Pio lo guardò con un figlio quasi con degli occhi furiosi e gli disse, Fra Daniele ma tu non sai che facendo tante fotografie tu stai peccando contro la povertà, al che quindi possiamo immaginare Fra Daniele quest'opera buona che aveva fatto accogliendo quest'uomo, poi portandolo da Padre Pio, si sentì un po' mortificato di questa situazione, quest'uomo invece poi andò via contentissimo, il sorriso gli era ritornato, aveva quasi acquistato serenità e tornò, quindi riprese la via per Milano. Ora Fra Daniele si trovava in questa situazione un po' di sofferenza e tristezza, Padre Pio lo guardò e disse accompagnami facciamoci un giro in giardino e cominciò a chiedere della sua giornata e Fra Daniele rispondeva con un sì, no e a quel punto Padre Pio si intristì di questa situazione, perché fai così e disse, Wagyu tu mi stai facendo crepare così e finalmente Fra Daniele parla, padre non ho avuto mai rimproveri nella mia vita, averli ora da lei e Padre Pio gli disse, ma tu per chi hai pigliato Padre Pio, per uno che rimprovera e mette tutti fuori dal suo cuore, quando lo faccio disse Padre Pio, prese il suo dito e lo portò alla bocca, la parte interessata qui, quello che viene fuori dalla bocca termina qui, quindi arriva alla gola, ma quello che sta qui rimane sempre qui e questo piccolo incidente terminò con un vero e proprio atto di umiltà di Padre Pio verso il suo confratello che scendeva in paese per recitare il rosario con i compaesani e lui disse Fra Daniele una preghiera per me oggi